Ci sono state emozioni epiche, signori, qualche lacrima anche di troppo per quanto riguarda l'ultima puntata per Michel Impossible, programma di Michel Unziker, probabilmente proprio perché è stata l'ultima puntata. La conduttrice svizzera, infatti, che in queste ultime settimane sta facendo ovviamente spettacolo, ha invitato vicino a lei l'amica Serena Utieri e insieme a lei hanno cattato una canzone per tutte le donne, per tutte le amiche, che si chiama That's What Friends End For di Dion Warwick. In effetti, l'hanno cattata per l'occasione dell'8 marzo e non poteva esserci momento più emozionante per poterlo ricordare, insomma, l'occasione giusta. Le due infatti si sono strette in quel momento e Michel si è commossa per il momento e per l'emozione. Ha poi detto la conduttrice, sai cosa mi piace dell'amicizia? Che ti fa sentire al sicuro. A me piace quando ci si sceglie, ci si riconosce e da quel momento sai che non sei più sola, ribatte la bellissima Utieri. Un'amica c'è sempre dice ancora la unzicher anche quando la vita ti butta addosso tutto quello che non ti aspetti, quello che desideri, ma anche quello che pensi di non riuscire a sopportare. E ancora, ti risponde anche quando chiami alle 4 del mattino e arriva col gelato d'emergenza, che mangiamo rigorosamente col cucchiaio grosso, perché non ci facciamo ridere dietro. Poi dice, la migliore amica è la sorella che ti scegli. A quel punto le due iniziano a cantare insieme il bel brano di Dionne Warwick, ma proprio durante la performance all'ex moglie di Eros Ramazzotti si spezza la voce per l'emozione proprio sul finale. Non riesco a cantarla, ti voglio bene davvero, dice commossa. Le due si conoscono da parecchi anni e sono molto vicine, sia sul palco che lontano da esso. Chi le segue entrambe sa bene che negli ultimi anni hanno trascorso molti momenti importanti insieme. Parliamo di feste e ricorrenze, fino alle vacanze in comune. Le due sono quasi inseparabili e si amano alla follia. Serena Othieri è sempre stata molto vicina anche a Tommaso Trussardi, avendo frequentato la sua famiglia. Una cosa che è continuata anche quando le cose con Michelle non sono andate molto bene. Non a caso è tra le persone che sono state più accanto alla conduttrice, e non solo, durante la triste fase della separazione tra Michelle e Tommaso. Un'amica è per sempre.